direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 12 settembre il jackpot ha raggiunto la cifra di 37 milioni 683 mila 507 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 92 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 78 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 15 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 36 pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 6 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 42 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 67 dopo i sei numeri che assegna il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ad altri cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly estratto di questa sera è il numero 2 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione è il numero jolly 78, 15, 36, 6, 42, 67 numero jolly 2 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premi anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar estratto di questa sera è il numero 11 ricontrolliamo tutti i numeri estratti al concorso numero 92 in ordine crescente 6 15 36 42 67 78 numero jolly 2 numero superstar 11 l'estrazione di oggi sabato 12 settembre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 37 milioni 600 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 92 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in allotto assegna 424 mila 423 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 37 milioni 600 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 38 milioni 700 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 12 e vincono 16 mila 440 euro ciascuno i 4 sono 659 e vincono 304 euro ciascuno i 3 sono 22 mila 291 e vincono 27 euro ciascuno i 2 sono 348 mila 424 e vincono 5 euro ciascuno e di questo concorso sono state assegnate ben 14 mila 591 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 5 e vincono 30 mila 454 euro ciascuno i 3 stella sono 165 e vincono 2712 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2.231 2 stella 10 euro ai 15.699 1 stella e 5 euro ai 34.937 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 15 settembre giocheremo per un jackpot di 38 milioni 700 mila euro arrivederci a presto Grazie a tutti.